Cittadini furibondi per il blocco del traffico causato dall'inizio dei lavori sul Ponte della Libertà per l'installazione del tram. Da questa mattina alle 5, gli operai hanno iniziato l'asfaltatura del primo tratto che da Mestre porta a Venezia, costringendoli a restringere le corsie. Un intervento che ha paralizzato il traffico per Venezia nella fascia di punta fino alle 9 e un quarto e soltanto verso il pomeriggio le auto hanno iniziato a defluire. L'assessore alla mobilità e ai trasporti Ugo Bergamo, cercando di placare la rabbia dei cittadini, ha spiegato che i disagi sussisteranno solo per le prime due settimane di lavori, perché una volta asfaltata la strada torneranno ad esserci due corsie di circolazione per senso di marcia. Quello che però è mancato, a detta di molti, è stata una comunicazione efficace che permettesse a chi tutti i giorni va a Venezia di prendere provvedimenti per tempo. Molti infatti, imbottigliati nel traffico, temevano qualche manifestazione o incidente. L'assessore ha consigliato in questi giorni di disagio di utilizzare il treno, sottolineando come Trenitalia, in caso di necessità, si è disposta ad aumentare i treni in direzione Venezia. Abbiamo invitato a utilizzare il treno, Trenitalia che lo sia pronta, a seconda della presenza ovviamente. Oggi non c'è stata questa affluenza in ferrovia, ma a fronte di una utenza che riteniamo DEPP, andare in quella direzione, a potenziare i collegamenti anche con la VET. L'amministrazione ha anche tentato di ottenere per questi giorni delle tariffe ridotte, in modo da incentivare l'utilizzo del treno, consentendo ai cittadini di non avere spese aggiuntive, oltre all'abbonamento a CTV, già aumentato proprio nel mese di giugno. Trenitalia non sembra disposta a concedere nessun tipo di agevolazione. Si attendono perciò gli esiti delle trattative, che però giungono in ritardo, dato che da mesi era previsto l'inizio dei lavori e il possibile disagio provocato.